News News Buonasera, lo avete sentito dai titoli, parleremo di alcuni episodi, ma soprattutto partiamo con il più drammatico, sabato notte a Sesti Levante in via Latiro, la via dell'artigianato della zona, sono spuntato prima a fumo e poi improvvisamente il fuoco all'interno di una roulotte che era parcheggiata, appunto ce ne sono anche altri vicini in questa zona e in pochi secondi tutto è andato a fuoco, tutto è stato distrutto, la maccaba sorpresa che all'interno però c'era il corpo di un uomo, vediamo il servizio. Continuano a Sesti Levante le indagini per accertare le cause del ruogo che sabato sera ha provocato la morte del 65enne Marian Banicki. Manca ancora la conferma ufficiale ma non ci sono più dubbi sul fatto che la vittima dell'incendio sia l'uomo di origini polacche conosciuto nella bimare come Stanislav che da qualche anno viveva nella roulotte andata a fuoco sabato sera in via Latiro. Sulla caduto indagano i carabinieri mentre il sostituto procuratore Paola Crispo ha disposto l'autopsia dei resti dell'uomo. L'uomo era molto conosciuto in città e spesso stazionava davanti alla Copp Liguria a chiedere qualche moneta ai passanti in compagnia di un cagnolino che però era morto la scorsa primavera. L'amministrazione comunale spiega l'assessore ai servizi sociali Lucia Pinasco aveva fatto avere una roulotte al clochar che è di indole buona, non ha mai dato fastidio con la sua presenza. In via Latiro aveva trovato una sua dimensione. Quando il corpo sarà restituito dalle autorità conclude Lucia Pinasco ci occuperemo noi del suo funerale. Un ultimo gesto di umanità di Sesti Levante verso una persona che da anni viveva nella cittadina senza mai aver causato problemi. La sua dipendenza dall'alcol probabilmente lo ha portato alla morte ma anche in questo caso è venuta in silenzio, distante da occhi indiscreti. E allora dopo questo episodio ne parleremo ancora perché naturalmente seguiremo la situazione dell'autopsia. Adesso abbiamo un altro servizio che è un coordinato del weekend e come spesso succede mettiamo insieme i fatti in po' di cronaca. Però c'è grande preoccupazione nelle forze dell'ordine ma soprattutto anche nella cittadinanza perché dovete pensare che dalle alture di Leivi ad arrivare alla Val Petronio sono stati perpetrati negli ultimi 15 giorni oltre 30 furti, è una cifra veramente enorme. Tra l'altro ne hanno segnalato uno pochi minuti fa a Riva Trigoso in via Balbi. Insomma è chiaro che ci deve essere un basista che segnala l'assenza dei proprietari di casa perché sono furti che sono avvenuti con scasso ma all'interno delle abitazioni non c'erano gli abitanti, non c'erano i residenti. A Sesti Levante e Reco ha sfiorato un bottino di quasi 100.000 euro. Vediamo il servizio. Weekend di duro lavoro per carabinieri e vigili del fuoco. Decine infatti i furti in abitazione e gli interventi per piccoli incendi e problemi causati dal forte vento la notte scorsa. In particolare per quanto riguarda i furti la Val Petronio vanta il triste primato. A Sesti Levante ad esempio col bottino più ingente è stato fatto sabato sera ai danni di una donna di 56 anni. I ladri sono entrati in casa forzando una porta a finestra e hanno rubato orologi preziosi gioielli in oro per un valore che sfiora i 100.000 euro. Fortunatamente la vittima aveva assicurato i preziosi custoditi in casa. I giorni di capodanno sono stati sfortunati anche per un 27enne a sua volta vittima dei ladri. Anche in questo caso sono entrati forzando una porta a finestra. Hanno rubato gioielli e due orologi per un valore complessivo intorno ai 5.000 euro. Ancora lo scorso weekend i carabinieri di Sesti hanno predisposto un servizio coordinato per prevenire reati contro il patrimonio. Sono stati controllati 5 esercizi pubblici, una cinquantina di auto e un'autovettura sottoposta a sequestro perché senza assicurazione. Due stranieri sono invece stati denunciati per il reato di immigrazione clandestina. Un 31enne infine è stato denunciato per un furto di una telecamera del sistema di videosorveglianza comunale avvenuto in via 25 aprile nella notte fra il 30 e il 31 dicembre. Per quanto riguarda i pompieri, a Rappallo sono dovuti intervenire in via Villa Grande ed in via Baracca, nel primo caso per una caduta di un albero, nel secondo per un grosso ramo. Problemi causati dal vento, il lavoro dei vigili fuoco ha riportato in sicurezza queste due aree. In Fontana Buona invece i vigili del fuoco di Chiavari sono dovuti intervenire a Dorero nella frazione di Soglio per l'incendio del tetto di un'abitazione. Ci sono voluti un paio d'ore, poi però le fiamme sono state circoscritte. La famiglia ha potuto rientrare nella propria abitazione. E anche in questo caso dobbiamo ricordare che le forze dell'ordine fanno appello ai cittadini affinché possano segnalare in qualsiasi momento qualche sospetto. E quindi meglio una telefonata alle forze dell'ordine che poi avere la sorpresa dei furti nelle abitazioni. Ora cambiamo argomento, andiamo a Sesti Levante e parliamo di una nuova attività, un'attività moderna, simpatica, riguarda l'educazione dei cani. Vediamo lo servizio. In tempo di crisi i giovani cercano attività nuove, studiano e quindi giungono al loro obiettivo con capacità e qualità nel servizio. E' l'esempio di Sesti Levante dove Gemma Olivieri con la sua passione per i cani ha affittato un terreno nella nuova strada parco tra via Soccorso e via Petronio e lì sta creando una base per educare cani e proprietari alla vita comune di tutti i giorni. Un amore infinito che sta producendo i suoi frutti, ovvio come tutte le nuove attività, augurare buona fortuna. Lei che tipo di attività, che studio ha fatto? Allora io ho fatto tutto un percorso di studi con Scadog, che tra l'altro saluto perché se non fosse stato per loro forse non sarei comunque qua, in un bellissimo centro a Genova e poi ho deciso diciamo di affiancarli collaborando con loro, però arriva a Trigoso, in modo da avere una sede in più luoghi e ho fatto un percorso di due anni con tirocinio, esami, studio sui libri, sui cani. Parliamo solo di cani o parliamo di cani e basta? Sì, cani, qualsiasi tipo di razza, qualsiasi tipo di età, qualsiasi cosa, trattiamo sia dall'educazione base del cucciolo, che ha una rieducazione, facciamo agility, facciamo un sacco di cose. L'importante per noi è il rapporto con il padrone però del cane, nel senso che per noi non è possibile lasciarci il cane, nel senso che è fondamentale che ci sia anche... Non è l'albergo per animali. Assolutamente, se serve ovviamente posso tenere il cane, quello non è un problema, però per noi è fondamentale il rapporto tra i due. Nel senso che tutto parte da lì, non c'è nulla se non c'è il cane e il padrone. Quindi fate corsi di qualsiasi tipo sempre legati all'educazione del cane. Assolutamente sì, sia dal cucciolo che magari arriva il cane un po' più grande che ha paura, aiutiamo a fargli superare questa paura, oppure arriva il cuccioletto che deve imparare a stare da solo in casa, oppure il seduto semplicemente, a seguire il padrone, andare al guinzaglio, tutte queste cosine qua. Quindi diciamo che per Sesti Levante è sicuramente una novità, tra l'altro Sesti Levante è particolarmente sensibile sugli animali, particolare sui cani, con le spiagge e quant'altro. Sì, tra l'altro ci sono qualche parchetto in cui portarli, però a volte magari sono gestiti in modo... Autonomo, esattamente. Invece io sono un centro comunque cinofilo e quindi il cane viene trattato in un certo modo, quindi col padrone seguito ma è lasciato lì da solo, o il padrone che parla con l'amico e il cane magari scorrazza da solo. Bene, quindi vedete ci sono nuove attività, noi cercheremo sempre di scoprire quando i giovani hanno voglia di fare. Ora passiamo alla Befana, ieri ci sono già stati alcuni appuntamenti, domani ce ne saranno altri. Cominciamo con l'appuntamento di ieri che poi si è svolto nel posto più alto della Liguria, ovvero a Santo Stefano, nel senso la Befana più alta. Vediamo. I bambini protagonisti dell'arrivo della Befana nel punto più alto della Liguria, infatti a Santo Stefano Daveto ieri non una ma due Befane sbucate tra i faggi nevati hanno portato doni e fatto divertire i presenti tra il centro e il rifugio di Prato della Cipolla. Una giornata di festa, protagonisti lo sci club di Santo Stefano, a dimostrazione che anche senza sciare in montagna ci si può divertire, grazie soprattutto allo scenario natalizio garantito dalla neve caduta prima delle festività. Befana in montagna e domani bis in riva al mare, infatti grazie al gemellaggio tra mare e monti, ovvero tra lo sci club di Santo Stefano Daveto e l'associazione del Bagnum Onlus di Riva Trigosa, alle ore 15 nei giardini di Via Brinvi sarà l'arrivo delle due Befane che inforcheranno gli sci ma questa volta in acqua per distribuire dolci ai più piccini. Proprio per la Befana di Santo Stefano Daveto gli organizzatori ringraziano Pia Caffè e la pasticceria Mare perché ha fornito gli ottimi regali da fare ai più piccini, poi naturalmente ricorderemo anche che ci sono altre Befane che verranno domani, in particolare quella di Riva Trigosa. Adesso abbiamo una notizia, viene da Chiavari, una notizia luttuosa perché Chiavari piange la morte di Luigi Diana, 92 anni, pittore e medico, era stato anche premiato dalla Società Economica col premio Turio Coppello come riconoscimento alla carriera, in altre occasioni invece la Fondazione Garaventa gli aveva dedicato degli spazi proprio per le sue opere. Noi ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, rimanete con noi che abbiamo ancora da proporre i servizi del sagrato di Trigoso e anche del premio Andersen, vi aspettiamo. Riprendiamo la seconda parte del TGT Guglio, parliamo di un libro, un ciotolo come lo chiamano a Trigoso, si tratta di una raccolta molto importante che negli anni ha visto tantissimi autori, anche nuovi autori cimentarsi, nel caso invece di adesso si tratta addirittura di una riedizione del Sagrato di Luce che è una raccolta di versi del professor Francesco Dario Rossi, molto famoso soprattutto per le sue grandi capacità di latinista e di esperto in greco. Vediamo. Sempre fervente l'attività del Circolo Sabino di Borgo Trigoso, soprattutto nel mondo della cultura, attraverso la lunga collana dei ciotoli il sodalizio ha portato alla ribalta decine di autori locali che nella poesia e nel racconto storico hanno dato il meglio di loro. È il caso del professor Francesco Dario Rossi, nativo di Chiavari, Marivano Doc, che in questi giorni ha presentato la nuova edizione del Sagrato di Luce, una raccolta di versi pubblicata nel 1999 e oggi riedita a grande richiesta per la bellezza delle poesie e per la loro profondità. Sagrato di Luce si ispira al piazzale della chiesa di Santa Sabina di Trigoso, ottenuto utilizzando milioni di pietre di mare. Tanto visto che siamo alla chiesa di Trigoso, ricordiamo anche che domani, presso la parrocchia di San Giacomo di Corta, Santa Margherita Ligure, ci sarà la solennità dell'Epifania, la festa del santo bambino che chiuderà la celebrazione del periodo natalizio. Si tratta della festa più antica di questa parrocchia, quindi domani alle ore 10 dopo la messa ci sarà la processione. Rimaniamo con due appuntamenti interessanti, domani a Portofino alle 21.30 ci sarà il ritorno del cabaret, questa volta con Fabrizio Casalino che sono tutti provenienti dalla scuola di Zelig. Ancora a San Salvatore di Cogorno, domani pomeriggio ci sarà uno spettacolo jazz all'interno della chiesa del Vecchio Borgo e quindi seguirà un rinfresco, un altro appuntamento che è interessante. Da non dimenticare che domani c'è anche in comune di Neppi, particolarmente partirà dalla frazione di Zerli, il presepe vivente. Quindi vedete quante iniziative si sono svolte sul territorio dalla vigilia di Natale fino a domani. Ricordiamo ancora appunto che domani c'è la Befana alle 10, domani mattina a Rappallo al Farco delle Fontanine e abbiamo anche naturalmente domani arriva a Trigoso la festa alla Befana, che l'abbiamo detto nel nostro servizio, il gemellaggio tra Santo Stefano Daveto, lo Sciclub e l'associazione del Bagnung Onlus, quindi con le Befane che verranno con gli sci però dalla spiaggia. Questa volta ci saranno dolci per tutti i bambini. Adesso abbiamo un servizio che riguarda il premio Andersen perché come ogni anno all'inizio dell'anno parte la nuova edizione, siamo alla 48esima edizione, ci si avvicina al mezzo secolo, di questo premio internazionale della FIABA che vede partecipanti da tutte le parti d'Europa. 2015 anno nuovo e nuova edizione per la precisione la 48esima del premio dedicato alla FIABA Christian Andersen Baia delle Favole, promosso dal Comune di Sesti Levante in collaborazione con la Regione Liguria. Per consegnare le FIABA inedite ci sarà tempo fino al 31 marzo. Quattro le categorie, scuola materna, bambini, ragazzi e adulti. Le opere dovranno essere spedite via posta alla giuria del premio, presieduta dal suo fondatore, il professor David Bixio, oppure via internet tramite il sito www.andersenpremio.it. Il vincitore della sezione adulti riceverà un premio di 3.000 euro, mentre le altre sezioni andrà un premio di 1.000 euro. Per l'autore della migliore FIABA in lingua straniera sarà invece in palio un fine settimana a Sesti Levante per due persone. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione è come sempre in programma il 6 giugno nell'ambito del Festival Andersen che si terrà dal 4 al 7 giugno. Noi ora abbiamo domani il ritorno del calcio perché domani saranno recuperate le partite di seconda e terza categoria che furono rinviate nel weekend dell'11 ottobre. In seconda categoria tutte le partite si inizieranno alle 14.30 e abbiamo questo programma. A Ciasetta-Sori contro il Sori, Borgo-Rotondo-Riesi, Carasco-Levanto-Cogornese-Panchina-Prorecco-Real-Fieschi-Real-Deiva-Sestieri-Aurora-Cornia. Lo ricordiamo, queste inizieranno alle 14.30. Invece ora vediamo il programma della terza categoria che si giocherà. Alle 10.30 United-Rappallo-Framura-Mortaretto. Alle 14.30 Moniglia-Renelle-Portofino-Segesta-Ricalcio-Borgo-Rappallo. Alle ore 15.00 Valle-Leivese. Alle ore 16.30 Entella-Rupinaro-Sport. E alle 17.15 Carlo Grasso-Atletico-Casarza. Quindi questa era l'ultima notizia. Vi lascio al Meteo e alla programmazione di Entella TV di Giti Guglio. Torna mercoledì alle ore 12.45. Previsioni per martedì 6 gennaio. Mattinata soleggiata, tuttavia a Levante ci saranno nubi basse e stratificate. Tale nuvolosità si espanderà nel corso del pomeriggio anche al centro e parzialmente al ponente. Venti deboli meridionali. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 4 e 16 gradi. Nell'entroterra tra meno 1 e 14 gradi. Previsioni per mercoledì 7 gennaio. Giornata grigia associata a deboli piovaschi sul Levante. Venti deboli meridionali. Mare poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 12 e 13 gradi. Nell'entroterra tra 8 e 12 gradi. Nell'entroterra tra 8 e 16 gradi.